Presidente, bentornato a Taranto. Innanzitutto bentornato. Taranto, oggi è la giornata di Taranto. Lei e una gran parte del governo siete qui per firmare alcuni progetti importanti per il rilancio della città. Quale sarà il futuro di Taranto? Come sarà la Taranto di domani? Però mi permetta di precisare. Oggi non è la giornata di Taranto. Perché questa giornata nasconde 86 riunioni tecniche, tante riunioni di livello politico con me, tutti i ministri, tutte le autorità locali, tutti gli stakeholders. Quindi Taranto, sono tanti i giorni dedicati a Taranto, non solo oggi. Oggi c'è questo passaggio, la sottoscrizione, c'è l'inaugurazione dell'ospedale San Cataldo, della prima pietra dell'ospedale San Cataldo, l'inaugurazione del corso di laurea in medicina e chirurgia, sottoscrizione di vari progetti che riqualificheranno anche buona parte del porto, buona parte della città vecchia e del centro storico. Per arrivare a questo, vuol dire che stiamo dedicando una visione strategica, abbiamo elaborato, e una costante attenzione e applicazione per Taranto. Quindi la strada però è lunga? La strada ovviamente è lunga, ma vedrete che come sin qui abbiamo fatto, velocissimamente ad esempio, per trovare i locali dell'ex sede della Banca d'Italia, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, così abbiamo fatto velocemente per attirare ad esempio il gruppo Ferretti, cantieristica leader mondiale, e quindi poter creare qui veramente nuova occupazione e tanti altri progetti, così faremo anche per la realizzazione di tutti i progetti. Oggi ce n'è un altro che non abbiamo sottoscritto in nessun contratto, ma a breve partirà, ve lo assicuro, anche il progetto di realizzazione dell'acquario. Vogliamo l'acquario più bello del Mediterraneo. Oggi non è prevista alcuna visita all'Exilva, lo stabilimento Exilva lo ha fatto l'altra volta parlando con gli operai. Taranto ha sempre dovuto scegliere tra salute e lavoro. Ecco, i tarantini vogliono sapere qual è il destino di quella fabbrica, che cade al pezzi e qual è il futuro di Arcelor Mittal. Anche una giornata così impegnativa, così fitta di impegni, sapete che dobbiamo rientrare a Roma perché abbiamo il DPCM, l'incontro con le regioni, dobbiamo varare questo DPCM al più presto. Però anche adesso mi sono ritagliato uno spazio per incontrare una delegazione delle varie associazioni sindacali per quanto riguarda i lavoratori dell'Exilva e anche una delegazione delle famiglie tarantini che hanno tanti a cuore risorti dello stabilimento. Il tema è sempre quello, li informeremo sullo stato del negoziato con Arcelor Mittal, li informeremo e ovviamente ribadiremo quelli che sono i nostri obiettivi. Noi vogliamo una transizione energetica, abbiamo l'opportunità qui di fare il primo polo siderurgico italiano e anche dei più importanti europei verde, stiamo lavorando per questo, vogliamo mantenere i livelli di occupazione, fermo restando che tutti questi progetti porteranno occupazione e potranno se del caso assorbire qualche esubero che dovesse crearsi nello stabilimento Exilva e ovviamente abbiamo ben a cuore il fatto che chi va a lavorare a Taranto nell'ex stabilimento Ilva non deve essere più costretto a sciogliere questo dilemma. Perseguo un rapporto di lavoro, quindi privilegio il lavoro a discapito della salute. Ecco perché ci stiamo impegnando per tenere proprio conto della sofferenza accumulata, che qui ci sia anche un corso di laurea in medicina e chirurgia, un corso che parte quest'anno autonomo, medicina sugli infortuni sul lavoro, sulla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro. abbiamo grandi progetti che debbono rispecchiare la forte identità culturale, la forte vocazione turistica, le caratteristiche di questo territorio per rilanciare e valorizzarlo ancora più. I casi Covid aumentano in Puglia, però non c'è una vera e propria emergenza sanitaria, ma ci dobbiamo aspettare un nuovo lockdown? L'ho già detto, noi abbiamo lavorato intensamente all'inizio della pandemia e soprattutto in questa seconda fase per evitare un nuovo lockdown. Un lockdown generalizzato, perché adesso abbiamo rinforzato il sistema sanitario nazionale, facciamo molti più test rispetto all'inizio, da ultimo una circolare di ieri ci consente anche di accelerare sia i test sia i periodi di quarantena. Abbiamo predisposto una serie di misure che dovrebbero assolutamente evitarci e ci eviteranno, ne sono convinto, un nuovo lockdown generalizzato. Però adesso dobbiamo concentrarci su queste nuove misure, sono misure sempre nel segno dell'adeguatezza, proporzionalità. Le stiamo discutendo, le chiuderemo, io spero già questa sera, con il nuovo DPCM, in modo da poter affrontare questa nuova ondata dei contagi senza restrizioni alle attività produttive, facendo correre l'economia, la vita sociale, ma in modo moderato. Quindi i cittadini devono entrare in quest'ottica. Rispettiamo queste misure, adoperiamo sempre la mascherina, iniziamo a rispettare quelle che saranno ulteriori misure che introdurremo, in modo da evitare di compromettere il nostro tessuto produttivo, perché dobbiamo evitare un lockdown che ci farebbe assolutamente male, malissimo, farebbe male alla nostra economia, quindi alla prospettiva di crescita, di sviluppo sostenibile a cui stiamo intensamente lavorando. Presidente, il dialogo con Emiliano come va? Io l'ho sempre detto, io con Emiliano, anche in passato, ho sempre trovato un interlocutore, un presidente di una regione che a me è molto cara, io sono pugliese, è inutile ricordarlo, e ho sempre avuto da lui massima correttezza espirituale, disponibilità al dialogo e a collaborare. Quindi sono contento di poterli, ho fatto anche gli auguri pubblicamente per questo nuovo mandato, anzi, a un certo punto di vista ho detto che il rinnovo di un mandato crea ancora più responsabilità, perché vuol dire che i cittadini hanno premiato anche, hanno ancora più investito in lui fiducia, nella sua fiducia, nei suoi confronti, anche dopo un precedente mandato. Continueremo a lavorare insieme nell'interesse di questa comunità e nell'interesse della comunità del Mezzogiorno e dell'intera comunità nazionale. E voglio aggiungere il riscatto di Taranto, il riscatto del Sud, il riscatto dell'Italia intera. Dobbiamo lavorare tutti in questa medesima direzione. Tutti insieme? Assolutamente tutti insieme. Recovery Fund, cosa si aspetta il Governo della Puglia? Il Governo si aspetta, la Puglia pienamente partecipe, come le altre regioni, si aspetta ovviamente che poi quando verranno progettati, li presenteremo pubblicamente questi progetti, vengano messi a terra e attuati nei tempi. Dovremmo lavorare tutti insieme per non dispendere più risorse, come è successo in passato. Grazie a tutti i telespettatori.